Cari fratelli e sorelle, il prossimo incontro mondiale delle famiglie si terrà a Roma nel giugno 2022. Il tema dell'incontro sarà l'amore familiare, vocazione e vita di santità. Dopo il rinvio di un anno dovuto alla pandemia, il desiderio di rivederci è grande. Nei precedenti incontri la maggior parte delle famiglie restava a casa e l'incontro veniva percepito come una realtà distante, al più seguita in televisione o sconosciuta alla maggior parte delle famiglie. Questa volta avrà una formula inedita. Sarà un'opportunità della Providenza per realizzare un evento mondiale capace di coinvolgere tutte le famiglie che vorranno sentirsi parte della comunità ecclesiale. L'incontro assumerà una forma multicentrica e diffusa, favorendo il coinvolgimento delle comunità diocesane di tutto il mondo. Roma sarà la sede principale, con alcuni delegati della pastorale familiare che parteciperanno al Festival delle Famiglie, al Congresso Pastorale e alla Santa Messa, che verranno trasmessi in tutto il mondo. Negli stessi giorni, ogni diocesi potrà essere centro di un incontro locale per le proprie famiglie e le comunità. In questo modo tutti potranno partecipare e anche coloro che non potranno venire a Roma. Laddove sia possibile, invito perciò le comunità diocesane a programmare iniziative a partire dal tema dell'incontro, utilizzando i simboli che la diocesi di Roma sta preparando. Vi chiedo di essere vivaci, attivi, creativi, per organizzarvi con le famiglie in sintonia con quanto si svolgerà a Roma. Si tratta di un'occasione preziosa per dedicarci con entusiasmo alla pastorale familiare, sposi, famiglie e pastori insieme. Coraggio dunque, cari pastori e care famiglie, aiutatevi a vicenda per organizzare incontri nelle diocesi e nelle parrocchie di tutti i continenti. Buon cammino verso il prossimo incontro mondiale delle famiglie e non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Grazie.